salve cosa sta facendo? chi è che puro? si tu! managgia! managgia! sei sito? silenzio managgia che se si sveglia il padrone di casa mi devo tirare fuori cortella e sbucciare budella eh ma cosa sbuccia? faccia finita! managgia! lei stai rubando! no rubare no Dio, ma quale rubare? ero qui a spazzare si a spazzare? ero a spazzare fuori polizie di buono di servo di lavoro di famiglia ricca italiana fascista ma speriamo si sveglia stifino a schiopettare di notte a fare managgia ma c'ho bambini poveri ma quale poveri? managgia si tu! c'ho bambini poveri managgia che non siano neanche iphone come fai a mangiare due giorni mi dice babbo perché non compra iphone? io non c'avevo le sordi per il appartamento non c'è niente non c'è niente hanno ancora televisore grosso pesante di quelli di prima vecchi e io non ce lo faccio managgia a portare pescale managgia prova a svegliare il padrone magari gli da anche una mano a portare televisore come lo faccio managgia ho fatto anche un regalino ho fatto disegno disegnino a campanello fa segni nei campanelli ho fatto un'opera d'arte mia accanto al campanello ma voglio fare fare queste cose questi disegni murale si chiamano segni? sui campanelli no si chiamano segni? come gli artisti di pop di pop chi è? managgia che c'è? c'è qualcuno? managgia zitto che se si sveglia padrone managgia ma speriamo mi tocca prendere un pantalone e andare a riscione eh? ma che 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 managgia è andato via eh managgia e mi ho fatto un po' di casino in apportamento in camera da letto ho fatto casino visto tutto l'olio ho fatto cacata ho fatto cacata sul tappeto ma che cosa ha? ho fatto fischare sul cuscino ma come fischare sul cuscino? ho fatto così per fare scherzo ma fare scherzo è una persona di merda è una persona di merda sì un'altra persona di merda